Civitella del Tronto vista con due episodi importanti di storia. Sì, questa volta non è mangiare, è storia, ma dopo una pausa dalla fine delle manifestazioni estive abbiamo deciso di riprendere comunque un argomento interessante. L'associazione Orgoglio Civitellese ha sposato subito la scoperta fatta dal professor Artese insieme al dottor Sospetti e quindi sabato prossimo appuntamento a Civitella a capire come mai anche da noi ci sono degli eretici. La finalità e l'importanza sono altissime perché questo incontro è nato dai miei contatti con il professor Luciano Artese che insegna storia e filosofia al liceo classico a Tero. L'incontro è molto importante perché mette in luce un aspetto nuovo sulla storia di Civitella del Tronto perché siamo abituati a conoscere la storia di Civitella del Tronto che è una storia soltanto militare prevalentemente. Invece questa volta entrano in campo diversi protagonisti, tra tutti il governatore di Civitella che addirittura viene accusato di essere un eretico e un luterano e siamo a metà del Cinquecento quindi siamo subito dopo il post concilio di Trento ed è un periodo in cui si fa intensa la caccia alla dissidenza e all'eresia. Quindi Civitella è protagonista non solo di eventi bellici che tutti noi conosciamo ma anche di un aspetto nuovo che nessuno prima d'ora aveva conosciuto che è quello dell'eresia e dell'inquisizione.